Benvenuti alla nuova puntata del format Ponente. Oggi ci troviamo nel delizioso borgo antico di Triora. Sapete che questo borgo è famoso per tantissime cose, soprattutto per essere conosciuto come il paese delle streghe. Però se vogliamo parlare anche di gnam gnam, di qualcosa di gustoso, è famosissimo il suo pane di Triora. Infatti più tardi andrò sicuramente a comprarlo. Bene, gustatevi questa nuova puntata. Ciao! Ciao! La collegiata alle mie spalle è una testimonianza di quella che era la primitiva chiesa di questo borgo antico e siamo nel comune di Triora. Delle tre navate del campanile a cuspide ormai non ce n'è più traccia, tanto che la facciata è stata rifatta nel 1770 in stile neoclassico. Musica Alle mie spalle troviamo il Palazzo Stella, è un palazzo costruito nel 300 ed è proprio il cuore del borgo antico di Triora. Questo palazzo nasconde tantissime storie, tantissime curiosità. Adesso ne entreremo anche dentro perché c'è il museo, vi faremo vedere alcune immagini, ma racconta anche una storia che racchiude un po' di tristezza e di stregoneria. Musica Entriamo all'interno del museo. Musica Musica Erbe magica A casa mia ho un sacco di erbe aromatiche, sarò una strega. Musica Ogni erba aromatica ha una proprietà e le streghe conoscevano l'utilizzo, tanto che venivano anche bruciate sul rogo perché si pensava che le streghe fossero delle donne che avevano dei rapporti con il diavolo. In realtà erano delle vecchie curatrici. Musica Tra le mura di Palazzo Stella si racconta una triste e sfortunata storia. La protagonista è Isotta Stella, che oramai, oltre a sessantenne, venne brutalmente torturata e, per i supplizi ricevuti, alla fine morì all'interno di queste mura. Musica Anche il genovese Giulio Scribani prese dimora all'interno delle mura di Palazzo Stella, ma con uno scopo molto cruento che diede origine al fenomeno noto come caccia alle streghe. Musica La porta della Fontana Soprana è la meglio conservata dell'abitato, con il suo arco tondo, i cardine e le feritoie che servivano proprio per allontanare i nemici. Era davvero una fortezza inespugnabile. Musica Vi era uno sportello dove si riscuotevano le gabelle. Oggi è murato e ci sono alcuni resti della cinta muraria. Sopra la Fontana Soprana è stata costruita una casa detta del Boia, perché appunto ospitava una persona detta alle esecuzioni capitali. Triora deve il suo nome a Tria Ora, cioè tre bocche, che indicavano i tre principali prodotti del luogo, che erano il grano, la vite e il castagno. Un tempo il borgo che dominava la valle di Taggia possedeva cinque fortezze, altissime case torre, volte incrociati e androni bui, circondato da una cinta muraria impenetrabile che rappresentava per Genova una serie grave minaccia, nonché un ostacolo per la propria espansione. Musica La cabotina, andiamo! Musica Questa è la direzione per raggiungere la cabotina, la famosa grotta delle streghe, dove si riunivano e vi racconterò la storia tra poco. Musica Le streghe avevano la scopo e volavano, non si vede nulla. La cabotina, la grotta delle streghe, e io ci vado. Musica E' permesso? C'è una strega qua per voi. Musica Finalmente abbiamo raggiunto la cabotina, questa vedete alle mie spalle è una sorta appunto di grotta, dove si riunivano le streghe come, come si può dire, un po' come si prendete tre amiche. In realtà, beh, loro parlavano di unguenti, di erbe aromatiche, di erbe curative. Purtroppo però sappiamo che vennero accusate di stregoneria, perché si pensava all'epoca che loro avessero dei rapporti con il diavolo. Purtroppo vennero ammazzate, torturate, sacrificate 30 donne di triora. E qui abbiamo la rappresentazione di una giovane e bellissima strega. Musica Giunti al piazzale troviamo quello che un tempo era una fortezza davvero inespugnabile e dimora dei signori locali. Musica Possiamo notare la cinta muraria e quello che rimane del torrione, che è stato proprio costruito sul punto più elevato per poter scorgere i nemici. Musica Il castello venne costruito sulla roccia dalla Repubblica di Genova a difesa dei suoi confini. Ma venne danneggiato proprio dai trioresi che protestarono contro l'esosità delle imposte. Musica 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 E con questa bellissima immagine alle mie spalle si è conclusa anche la cinta. anche questa puntata nel comune di triora. Noi vi salutiamo e ci vediamo la prossima volta. Un bacio da Saba e da Zenazon. Ciao! Musica Straordinaria la conduttrice. No, non è una perla, è divina, semplicemente divina. Straordinaria. Siamo arrivati nel borgo antico di triora e ha iniziato a piovere, quindi che cosa abbiamo fatto io e il regista? Ci siamo fermati in questo delizioso ristorante che siamo accompagnati da un vino del territorio e ovviamente il pane di triora. E vabbè, oggi ci tocca così. Aspettiamo quel tempo. A tra poco. Anche. A presto, abote. Com'è. Ciao